Hai così tanta voglia di combattere i criminali che ti fai rinchiudere per affrontarli uno alla volta? A dire la verità quelli erano in sette. Io ne ho contati sei signor Wayne. Come sa il mio nome? Il mondo è troppo piccolo perché uno come Bruce Wayne possa sparire per quanto in basso decida di scendere. Lei chi è? Io mi chiamo Ducard ma sono qui per parlare a nome di Ras Al Ghul, un uomo estremamente temuto dai criminali. Un uomo che vuole offrirti una via. E chi le dice che ne cerchi una? Uno come te qui solo per scelta. Hai voluto curiosare all'interno del mondo criminale ma quale che fossero le tue intenzioni iniziali ora sei palesemente sbandato. E quale sarebbe la via che Ras Al Ghul mi può offrire? La via di un uomo che condivide il tuo odio per il male e che desidera servire la vera giustizia. La via della setta delle ombre. Siete dei vigilantes? No, no, no. Un vigilante è un uomo sbandato che si getta nella mischia per la propria gratificazione e che può essere annientato o chiuso in prigione. Invece, se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa. Che cosa? Una leggenda, signor Wayne. Domani verrai rilasciato. Se sei stanco di misurarti con dei ladronquili e vuoi conseguire un risultato, c'è un raro fiore azzurro che cresce sul versante orientale. Cogli uno di quei fiori. Se riuscirai a portarlo in cima alla montagna, forse troverai quello che hai tanto a lungo cercato. Sì. E che cosa avrei cercato? Questo solo tu puoi saperlo. Ehi, aspetta, se ti piacciono le curiosità sui film, basta che vai sulla playlist curiosità del mio canale e potrai conoscere molti dettagli di altri film famosi di Hollywood. Mi raccomando non esitare perché... perché è gratis.